Ora mi è stata richiesta una traduzione di questa versione, non è particolarmente difficile, però ci possono essere degli scogli alla lettura, è tratta da Factorum Edictorum Mirabilium di Valerio Massimo, come potremmo intitolarla, Umanità dei Romani Antichi. Antichi perché già al tempo di Livio questa umanità era venuta meno, perciò Livio, e io non ritengo che questa sia leggenda e neanche una celebrazione del buon tempo antico, mette in evidenza la disponibilità dei Romani e l'importanza delle loro leggi e il diritto all'ospitalità di coloro che si rifugiavano appunto presso i Romani. Ne Egyptus Quidem, Romani Humanitatis Expers Fuit, l'Egitto ne conosciamo la storia, adesso non ci fermiamo qui, ma in ogni modo, Nequidem, ricordatevi che vuol dire neppure, neppure l'Egitto, fu estraneo o esente o immune, in latino Expers Reggio Genitivo, in italiano traduciamo come meglio possa venire, no? Fu estraneo al senso di umanità romana. Reggio Genitivo, in italiano traduciano come meglio qui abbiamo mi raccomando sempre con i participi per esempio vediamo le concordanze quindi c'è spogliatus qui non può essere che un nominativo maschile singolare si riferisce a Ptolomeus poi anche qui cause grazia e genitivo del gerundio gerundivo che abbiamo un gerundivo è una proposizione finale ricordatevi che nel gerundivo il nome che accompagna il gerundivo è sempre il complemento oggetto del gerundivo per chiedere aiuto quindi il re dell'Egitto di quello il suo re Ptolomeo spogliato del regno dal fratello minore regno un complemento di privazione in ablativo abbiamo una proposizione principale venerata e una coordinata alla principale con Tulerat era venuto a Roma con paucis ad modum servis con molti pochi servi obsitus qualora osio di nuovo e riferito a Ptolomeus coperto di squallore di povertà di miseria la coordinata e si era recato se contulerat in ospizium alessandrini pittoris nella demora di un pittore alessandrino del pittore alessandrino ospizium intesa come dimora di ospitalità cioè il pittore apre al re le porte della sua casa all'insaputa delle autorità romane id posquam senatu irallatum est arcessito iuvene quampotuit accurata excusazione usus est quodan nec a questuore millimore mariorum ovvio misisse nec pubblico eum ospizio excepisse e acque non sua negligenza di psius subito et clandestino advento facta dixit et illume curia protinus et pubblicos benates deductes ortatusque ut deposit put sordibus adeundi psius diem peteret qui non ci dovrebbe neanche essere un questo diciamo dovrebbe esserci semplicemente un punte virgola sarebbe la cosa migliore e continuare qui quineziancure abuit uttei munera per questo non è cotidio e darendo quindi è una lunga come voi vedete proposit frase no? abbastanza complicata nelle subordinazioni infatti ho dovuto usare 50 colori uno differente dall'altro vediamo faccio che tradurre partendo dall'inizio senza andare a cercare la proposizione principale ci arriverà perché c'è un postman voi vedete come un postman chiaramente siamo in una proposizione temporale dopo che questa cosa fu riferita al senato poi abbiamo un ablativo assoluto un nome con il suo participio passato tutte e due in ablativo chiamato il giovane adesso io vi do la traduzione letterale letterale poi bisogna non si può tradurre letteralmente vedete qui abbiamo innanzitutto una proposizione principale accurata escusazione usus est questo quam potuit è una relativa questo quam si riferisce ad o escusazione abbiamo un usus est che deriva da uto 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 regge all'ablativo allora usò una accurata scusa che potè quindi fece presentò tutte le scuse che erano in suo potere parliamo del senato quindi come sempre se uno chiaramente alla lettura ha inteso il significato può partire in quarta e tradurre però è evidente che se mi si presenta questa versione che non è per niente difficile e ha creato questa versione delle difficoltà vuol dire che non si è ancora all'altezza di capire subito il significato della lettura quindi la soluzione è tradurre letteralmente per tradurre letteralmente bisogna conoscere le regole bisogna conoscere ad esempio che uto regge all'ablativo usò una scusa accurata potuit uno dice ma quam non si riferisce al nome però quam è femminile vedete che non c'è niente di femminile qui quindi questo quam si riferisce ad escusazioni quod per il fatto che ne aveva mandato obbiam regge all'ablativo obbiam illi incontro a lui il questore more maiorum secondo il costume degli antenati more un complemento di limitazione ne aveva accolto lo aveva accolto c'è un eum pubblico ospizio nell'albergo pubblico in congiuntivo direi che noi traduciamo nello stesso tempo italiano però all'indicativo perché esprime una possibilità e acque dunque abbiamo detto che c'è una proposizione principale accurata escusazione usus est et vedete c'è un et dixit perché poi c'è un'altra proposizione coordinata et deduxit e poi c'è un'altra proposizione et portatus est e poi volendo ce n'è ancora una adesso non so ho perso il filo uno dunque qui è la principale poi abbiamo prima coordinata poi seconda coordinata terza coordinata poi ne avremo la quarta coordinata quineziam habit cure se non qui dopo il punto e virgola si può cominciare da capo e cominciare di nuovo con una proposizione principale quindi e disse ora uno scoglio qui potrebbe essere questo che facta si potrebbe intendere come un nome factum facti neutro e invece un'infinitiva e disse che quelle cose quei fatti quegli avvenimenti facta esse erano avvenuti erano capitati non per proprie negligenze ma per l'arrivo improvviso e sconosciuto dello stesso e continuiamo e deduxi condusse quello subito dalla curia ai pubblici penati questa è una metonimia all'albergo pubblico e tortatus est e esortò e lo esortò anche qui proprio facile non è lo esortò abbiamo una dichiarativa ut petaret diem di cercare un giorno questo è semplice depositus sordibus è un avlativo assoluto deposti vestiti logori sporchi consunti quindi lo esortò a scegliere un giorno adeundi ipsius adeundi di nuovo una perifrastica passiva no scusatemi e un gerundivo do ipsius è il complemento oggetto di adeundi di scegliere letteralmente un giorno di accogliere lo stesso letteralmente di scegliere un giorno per l'incontro nel senato capite che non sempre noi possiamo tradurre quindi sempre in sostanza questo re era un'autorità straniera doveva essere accolto ufficialmente nel senato e allora io ti apro l'albergo pubblico tu mettiti a posto depositi sordibus pulisciti ordinati ti presenti come re e poi determini un giorno peteret diem e lo esortò a scegliere un giorno adeundi ipsius per essere accolto nel senato e questo è indubbiamente uno scoglio ma ce n'è un altro cui scoglio ed è questo qui ne siamo cure abuit dunque la difficoltà qui sta nel fatto a mio avviso poi se voi avete altre proposte io le accolgo ben volentieri perché capite che non sempre le mie intuizioni sono assolute e perfette già l'altro giorno mi è arrivato un suggerimento molto ottimo e io l'ho subito messo nell'errata corrige dunque che anche che anzi questa è una formula che voi potete andare a cercare nel doppio dativo il fatto è che la formula del doppio dativo in italiano come per l'accusativo la greca è poco usata in più qui è sottinteso un dativo se io vi ricordo la formula più facile del doppio dativo era questa essere laudi essere di lode a qualcuno però ci sono tanti altri verbi che possono reggere un doppio dativo avere di cura qualcuno quindi che anzi che anzi ebbe il senato di cura a lui quindi che anzi noi diciamo in italiano oggi il senato si preoccupò attribuita attenzione a lui non è possibile tradurre così voi capite che anzi il senato si preoccupò e abbiamo poi la dichiarativa uptei munera per quest'ora un quotidiano rentur che fossero dati ogni giorno per mezzo del quest'ora e complemento di mezzo a lui dei doni attraverso questi beh cominciamo dalla proposizione dal verbo il senato sollevò lui il re che giaceva no abbandonato detronizzato all'onore regale e questo sono un complimento di strumento attraverso questi gradi di interventi e te feci tutta e feci in modo che e siamo di nuovo in una dichiarativa quel re egiziano ponesse più di speranza nell'aiuto del popolo romano più di speranza in italiano non lo diciamo spei un genitivo partitivo riponesse più speranza nel popolo nell'aiuto del popolo romano che metus è un genitivo plus metus che timore nella sua fortuna e nel suo destino ripone più più più